Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie dalla nostra regione, incidenti stradali, alcuni purtroppo anche dall'esito mortale, l'ennesimo incidenti stradali, è una stagione davvero da dimenticare questa per le strade del Veneto. Furti, altre notizie di cronaca, come sempre la cronaca sovrana nella prima parte del nostro telegiornale, che per oggi inizia in modo un po' diverso, perché c'è una visita importante, una visita istituzionale del ministro Salvini a Venezia, è periodo di celebrazioni piuttosto importanti anche per il capoluogo regionale. C'è da vedere come si muove la situazione, anche per il Mose, perché ci dicono i nostri colleghi che Salvini visiterà poi il Mose nel corso della giornata. Quindi andiamo subito a vedere un importante contributo che ci arriva da Venezia con tutto il racconto di questa giornata. Buongiorno da Venezia, la visita del ministro delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini si è appena conclusa. Matteo Salvini è arrivato qui a Venezia per un'importante inaugurazione. Vedete, noi ci troviamo di fronte alla Basilica di San Marco, quelle persone che vedete sono tutte in fila per entrare alla Basilica. Come potete osservare c'è l'acqua alta oggi a Venezia, questo perché San Marco è una delle zone più basse della città, per cui va sotto anche a 83 centimetri. Ci sono molti turisti, naturalmente. Che cosa è stata inaugurata oggi? Ve lo facciamo vedere immediatamente. Queste paratoie trasparenti che tengono la Basilica all'asciutto anche quando c'è acqua alta. Quindi, come vedete, dal lato della Basilica è tutto completamente asciutto, altrimenti la chiesa sarebbe stata sott'acqua anche oggi. Un'opera i cui lavori erano iniziati da diversi mesi, che oggi è stata inaugurata ufficialmente con la presenza del vicepremier Salvini. C'era anche naturalmente il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della regione, Luca Zaia, oltre a tutte le autorità della città, dal prefetto al questore, naturalmente il patriarca di Venezia. Salvini ha parlato un po' di tutto. Devo dire, prima di entrare a visitare la Basilica e poi inaugurare l'opera, dall'autonomia a quelli che sono i prossimi impegni che lo riguardano, come ministro delle infrastrutture, anche per quello che riguarda il Veneto. Per cui ascoltiamo un estratto del suo intervento, poco prima di entrare nella Basilica di San Marco, poi la linea. Torna allo studio. Sono qua a ringraziare i veneziani, coloro che hanno lavorato e che mettono in salvo un gioiello, la città più bella del mondo. Vedere questa chiesa oggi, vedere la Basilica all'asciutto, salvata da queste mini barriere, in prospettiva l'intera città salvata dalle maxi barriere, è un'emozione, è un orgoglio, quindi da ministro ci tenevo a venire qua, a ringraziare che ha portato pazienza per tanti anni. Sto e stiamo lavorando perché anche nei prossimi anni ci sia la manutenzione e la gestione. Sono soldi ben spesi perché ogni volta che Venezia va sott'acqua è un disastro ambientale, naturale, sociale ed economico. E quindi entro poche settimane, come ho dimostrato su altri fronti, anche in Veneto ho incontrato Zaio, ho incontrato la De Verti, ho sentito i sindaci di Treviso, di Vicenza, di Venezia, stiamo bloccando, sbloccando la A13, stiamo lavorando sulla A22 e sulla terza corsia della A4, quindi ci sarà la gestione del Mose anche per i prossimi anni. E qui vuol dire che arriverà la nomina del Presidente? Assolutamente, ho la scrivania ricca di carte. Quanto? Diciamo che entro la fine dell'anno conto di avere la squadra al completo. Ho trovato più di 100 opere commissariate, cantieri fermi, dighe, ponti, mille ponti sotto controllo, strade in arretrato, rischiamo di perdere tra i 4 e i 5 miliardi di euro di finanziamenti per mancata capacità di spesa, quindi sono al Ministero da 25-26 giorni, mi sembra di esserci da due anni, però è entusiasmante come sfida perché ogni cantiere sbloccato significa lavoro. Quindi entro la fine dell'anno conto che tutte le nomine verranno fatte da nord a sud, bisogna nominare il proiettorato in Sicilia, bisogna... In manovra mettiamo degli altri fondi, le Olimpiadi ci saranno, saranno un evento eccezionale, l'Italia sarà all'attenzione di tutto il mondo, quindi non possiamo sbagliare. Permettetemi di dire che si sono persi due anni sul fronte Olimpiadi, sul fronte Venezia, su tanti fronti, si sono persi anni, poi non sono qua a far polemica, sono qua a guardare avanti. Diciamo che probabilmente molti interventi anche a Venezia avrebbero potuto essere inaugurati prima. Comincieremo a lavorare alla legge di bilancio da lunedì, quindi oggi è sabato, conto che Venezia abbia l'attenzione che merita in una situazione economica complicata. Ieri abbiamo fatto la riunione, non faccio nomi e cognomi in conferenza stampa. Ci lavoreremo, il mio obiettivo è lavorare con i sindaci, tenete presente che non essendo neanche da un mese al Ministero non c'è ancora la squadra fatta, quindi datemi tempo di finire la squadra e poi recupereremo tutto il progresso. Nella manovra sono contento perché la stragrande maggioranza delle risorse andrà sulle bollette per imprese e famiglie vista la situazione, però come promesso ci sarà lo stop alla legge Fornero la via di quota 41, ci sarà l'innalzamento della flat tax da 65 mila almeno 85 mila Euro, ci sarà una rinnovata pace fiscale con raffinazione di milioni di cartelle, ci sarà una revisione importante del reddito di cittadinanza, noi abbiamo chiesto che chi rifiuta un posto di lavoro perde qualsiasi contributo e denaro pubblico e sul tema dell'autonomia abbiamo fatto ieri un'ottima e utile riunione e io penso che il Ministro Calderoli anche lui in un mese abbia fatto più di quello che non hanno fatto in due governi precedenti, ho sentito Zaia, ieri ho sentito Fontana e anche in questo caso entro la fine dell'anno ci saranno i primi segnali concreti, tangibili. Io penso che si metteranno d'accordo tutti, non si tratta di portare via qualcosa a qualcuno, si tratta di permettere a chi si sente più pronto di affrontare nuove sfide, quindi qualcuno potrà chiedere due competenze da gestire localmente, qualcuno ne potrà chiedere 15 o 20, entro l'anno si parte, il obiettivo in Consiglio dei Ministri, con un testo che metta d'accordo tutti, voi avete visto che c'è qualcuno che probabilmente non nel merito ma per motivi politici dice di no a prescindere. E quando penso si riuscirà ad arrivare alla concretizzazione dell'autonomia per il Veneto? Cioè quando si arriva alle prime competenze delegate finalmente a Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, tutti quelli che lo chiederanno? Io un'idea ce l'ho, non fatemi dare pronostici perché sennò dicono che porto via il lavoro agli altri ministri, però la tabella di marcia ce l'ho ben chiara e questa sarà la legislatura comunque definitiva. Ma si deve avere un'ordine di fronte di Italia? No, le ho lette sui giornali ma non ieri al tavolo. Poi il bello è che fai una riunione per due ore parlando di cose, poi leggi alcuni giornali e leggi altre cose. No, ma attenzione, sul presidenzialismo siamo tutti d'accordo e quindi ci sarà il rinnovo di un impegno che risale al 2012 e quindi è giusto andare avanti. Il presidenzialismo ovviamente deve riformare la Costituzione, quindi la Costituzione la riforma in 15 giorni. Portiamo avanti tutto, l'autonomia è pronta perché l'hanno chiesto alcune milioni di persone. Quindi l'importante è che tutti sappiano che non ci sarà il meno per nessuno, c'è solo da guadagnarci con l'autonomia. Ma il congresso della Lega toglierà le incompatibilità per i regionali? Ma non ci sono. Ci sono, le avete messe voi. Ragazzi, parliamo di vita reale, ognuno si può candidare a fare quello che vuole e dove vuole. Detto questo, siamo già al 90% dei congressi. Ognuno si può candidare a fare quello che vuole, però io occupo un ministero che si occupa di lavoro. Quindi delle beghe mi interessa men che zero. È una bellissima giornata. La struttura in Veneto, Pedemontana, Terza Corsica? Si corre. Si corre. Ho già fatto due riunioni col Veneto, ripeto, in tre settimane. Stiamo parlando di tre settimane di sedimento del nuovo governo. Ho già incontrato più della metà delle regioni italiane. C'è il dossier della CAV, della trasformazione in autostrade. C'è il dossier di Vicenza, c'è la bretella di Treviso. Ce n'è. C'è l'alta velocità. Ovviamente non si potrà fare tutto e subito, bisognerà darsi delle priorità. Però il Veneto avrà una quantità di investimenti da recuperare notevolissima. Tra le priorità? Ne ho parlato con l'autorità portuale prima. Tenere insieme lavoro e tutela della città è fondamentale. Non si può dire di no a prescindere. Anche perché c'è un porto, ci sono lavoratori che aspettano risposte. Addio all'offshore? No, oggi non sono a dire addio a nessuno. Oggi sono a dire benvenuto. Anche qua bisogna tutelare l'esigenza degli italiani di riscaldarsi, di lavorare, di viaggiare e la tutela dell'ambiente. Quindi alcune situazioni particolarmente delicate andranno valutate con estrema attenzione. Mi ricordo la visita al Delta del Poli, incontro con i pescatori. Quindi l'ascolto di quei lavoratori sarà prioritario e fondamentale. Poi l'Adriatico è grande comunque. Tornando un attimo alla Pedemontana, c'è un esborso ulteriore per i mancati pedaggi. Insomma, questo peserà sulle tasche dei Veneti? No, vedremo di farci carico come è stato, di finire quello che è in corso. Allora, avete sentito tante dichiarazioni. Una lunga intervista al Ministro Salvini su tantissimi temi. Proseguirà adesso la visita. Sappiamo che ci sarà anche un intervento sul Mose. Mose che oggi è d'attualità perché, come avete potuto vedere dalle immagini della nostra troupe, un po' di acqua alta c'è, le persone camminavano sulla passerella a Venezia in giorni importanti per la città. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e abbiamo tutta la cronaca ancora da raccontarvi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena visto un lungo contributo da Venezia con un'intervista integrale al Ministro Salvini con tutte le ultime notizie d'attualità dal Veneto. Poi saranno da sviscerare e staccare le une dalle altre per dividere sui vari territori. Però insomma, un lungo intervento a volo d'Aquila sul Veneto. Vediamo poi che cosa succederà. Arriveranno altre notizie da questa visita istituzionale. Andiamo alla cronaca. Perché c'è stato l'ennesimo, come dicevamo in apertura di TG, incidente stradale in Veneto. Nuova tragedia. Poco dopo delle 8 di questa mattina, sulla Castellana a Scorzè, un cinquantenne del posto, ha perso il controllo della sua vettura. Una Skoda che è finita rovesciata in un canale di scolo contro il muretto di cemento di un ponte pedonale. I vigili del fuoco intervenuti da Mestre con i volontari di Mirano hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del suo è ma dovuto dichiarare il decesso dell'uomo di cui al momento non si conoscono le generalità. La polizia locale ha avviato il traffico ed ha eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Saremo più chiari nel corso della nostra informazione, arriveranno altre novità anche su questo caso dai nostri colleghi. Ennesimo incidente stradale anche nella marca Trevigiana. Ieri sera una 24enne è rimasta ferita in modo gravissimo. Una strada poco illuminata e avvolta dalla nebbia. La ragazza che cammina lungo la carreggiata per andare a lavoro in un ristorante della zona. I fari del SUV che appaiono improvvisamente dietro di lei. Poi l'impatto terribile. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Caffoncello. La 24enne Kosovara che ieri sera è stata sbalzata per una decina di metri dopo essere stata travolta in via San Martino a San Biagio di Callalta, poco distante dal centro commerciale Tiziano. Erano le 19. Quando medico e infermieri del suo 118 sono intervenuti sul posto, chiamati dallo stesso automobilista sotto shock, il cuore della ragazza si era fermato ed è stato necessario avviare le manovre di rianimazione che fortunatamente hanno avuto successo. La 24enne è stata trasportata d'urgenza in terapia intensiva. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i test alcolemici nei confronti dell'automobilista. Ieri durante la nostra informazione avevamo parlato dell'ennesimo incidente mortale dell'Alta Padovana. Un giovane si era schiantato contro un palo e ora emergono altre novità su questo incidente. Sentiamo. Ancora non sono stati fissati i funerali di Leonardo Carpi nel 28enne di Massanzago che ieri mattina è morto in un tragico incidente a Santa Giustina in Colle. Sul luogo dello schianto qualcuno ha lasciato dei fiori per ricordare la giovane vita spezzata. Ieri mattina, poco prima delle 8, Leonardo stava andando a lavoro nella ditta di Santa Giustina in Colle dove era stato assunto come operaio. Aveva avvisato che era in ritardo ma in azienda non è mai arrivato. La sua vita si è fermata contro un palo di cemento in prossimità di una curva lungo via commerciale. Lo schianto fortissimo forse è stato provocato dall'asfalto e reso scivoloso dalla pioggia caduta la sera prima. Il palo di cemento però non sarebbe la prima volta che provoca delle vittime in questo tratto di strada che collega Santa Giustina in Colle con la frazione di Fratte come racconta un residente testimone dello schianto. La sofferenza di vedere questo palo perché ho parecchi trattori, se per caso costio lo tiro giù. Era pratico di questa strada però strada umida, ha trovato la ghiaia là, ha sbandato e hanno stato buon frenare. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il 28enne ma per lui non c'era più nulla da fare. Leonardo Carpina, diplomato all'istituto professionale ENAIP di Padova, era un grande appassionato di musica e di animali. Sui social network lo si vede, spesso ritratto insieme al suo cane Aschi di nome Aki. Mi stiamo raccontando da settimane e da mesi una situazione davvero drammatica per quanto riguarda le strade del Veneto con un numero di incidenti altissimo che sta portando oltre a feriti e a disagi, a tanti lutti nella nostra regione. Tanto che l'amministrazione di Spresiano ha deciso di mettere in scena un'iniziativa molto forte. Per qualche istante la Ponte Bana è stata bloccata, le auto ferme, nasi all'insù per vedere uno degli striscioni posizionati. Rispetta i limiti. Si tratta dell'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Spresiano e dalla provincia di Treviso. Credo sia un segnale forte bloccare una strada statale per sensibilizzare a un corretto comportamento quando ci si mette al volante o comunque quando si usa la strada pubblica. Davanti a tutti le parole di Daniele Furlan, vittima di un grave incidente stradale, è lui a lanciare un appello a tutti gli automobilisti. Mettersi alla guida di un'auto se non si è nelle giuste condizioni è come impugnare un'arma. è come impugnare un'arma e sparare all'impazzata. Può andare bene e non colpire nessuno ma si può anche provocare una strada. Fra le cause degli incidenti stradali l'alta velocità, proprio alcuni giorni fa in A27, un automobilista è stato sorpreso a sfrecciare a 218 km orari, non solo. L'aumento delle cinture di sicurezza è dell'80%, l'aumento del telefonino e quindi della distrazione è del 70%. Per quanto riguarda l'alterazione, mentre pre-pandemia avevamo una positività di 2,18 positivi rispetto alla percentuale che noi abbiamo controllato di soggetto, quell'indice è salito a 4,58, quindi è più che raddoppiato. Negli ultimi servizi su 150 automobilisti controllati per l'alcol 29 sono risultati positivi, dati che devono far riflettere. Noi in effetti in 10 mesi scarsi abbiamo rilevato 121 sanzioni per velocità, poi ne abbiamo anche 560 per mancata revisione, 98 per assicurazione, per cui sono tutti dati che comunque fanno riflettere e purtroppo la distrazione che rimane una delle principali cause è una cosa che la gente non percepisce. Gli striscioni rimarranno sulla strada. Come spresiano vogliamo dare questo segnale che rimane tutto l'anno e quindi le luci che non si spengono mai sul problema per tutto l'anno. E ora sentiamo le parole di Daniele Furlan che abbiamo visto anche in questo servizio, rimasto disabile dopo un incidente. Io sono stato tamponato mentre ero fermo in coda, sono stato tamponato da un auto articolato e quindi questo significa che quando si è alla guida bisogna fare attenzione non solo a se stessi ma anche agli altri. Quindi bisogna avere sempre gli occhi puntati sulla strada, non solo per controllare se stessi ma anche per gli altri. Ecco, l'appello per non i giovani perché sono tutti, perché c'è la distrazione ma c'è anche l'uso di alcol, l'uso di sostanze. Un appello all'automissione perché lei dice che la vita viene rovinata a chi subisce l'incidente ma anche a chi lo provoca. Sì, la vita viene rovinata. Quando succede un incidente stradale con degli esiti mortali o con delle lesioni gravissime come è nel mio caso, la vita viene rovinata a tutta una serie di persone. Io credo che fra queste, a parte chi ne subisce le conseguenze, che è evidente, però io credo, in un certo senso voglio anche sperare, non che venga rovinata, ma che rimanga impressa nella mente di chi lo ha provocato. E voglio anche immaginare che se c'è un minimo di umanità nelle persone, che la persona che lo ha provocato, questo incidente, abbia, non dico un rimorso, ma un rimpianto che porti con sé con tutta la vita e che riesca questo rimpianto anche a tramutarlo in qualcosa di positivo, trasferendo agli altri quelli che sono i suoi sentimenti. Lei ha più ripensato a quel giorno, al giorno dell'incidente? Ho ripensato mille volte a quel giorno. Ho pensato che mi sono trovato nel posto giusto, nel posto sbagliato, al momento sbagliato, scusa. E ho pensato se mi fossi fermato a bere un caffè, fossi arrivato due minuti dopo. Ho pensato che ci sono mille piccoli aspetti che compongono un incidente. Se non ci fossi stato io, sarebbe toccato a un altro comunque. Quindi probabilmente l'esito potrebbe anche essere mortale, che ne so. Quindi credo che in un certo senso il destino sia questo. Però in ogni caso non bisogna dimenticare che il destino è stato forzato da uno sbaglio, da una persona che ha commesso uno sbaglio veramente grande. Perché quando ci ha tamponato, perché non ha tamponato solo me, ha tamponato anche altri 15 mezzi e c'è stato anche un morto nell'incidente, non ha fatto neanche accenno a una frenata. Un appello che io lancio è che mettersi alla guida di un'auto, se non si è nelle giuste condizioni, è come impugnare un'arma. È come impugnare un'arma e sparare all'impazzata. Può andare bene e non colpire nessuno, ma si può anche provocare una strage. Una testimonianza fortissima per un tema di grande attualità in Veneto. Adesso però facciamo una breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus Tg. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca. Mettiamo da parte per un attimo le notizie riguardanti gli incidenti stradali che stanno funestando le strade della nostra regione. e andiamo a vedere la cronaca che ci arriva dalle varie province. Controlli a tappeto nel Vicentino, sanzionati anche due locali. Vediamo. Controlli straordinari dei carabinieri di Tiene, il cui bilancio è di due sanzioni a due locali, uno Sandrigo, uno a due ville, per alcune violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Una denuncia per taccheggio. E nella rete dei controlli è finito anche un 52enne cittadino serbo che è stato arrestato a Tiene poiché a suo carico pendeva un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Vicenza, il quale dovrà scontare in carcere la pena di un mese e 18 giorni. I posti di controllo dei carabinieri si sono concentrati nei comuni di Villa Verla, Tiene, Breganze, Sarcedo, Sandrigo, Caldogno, Costa Bissare e Povolaro. 14 militari dell'arma complessivamente impiegati assieme al personale del NAS della Forestale e ai militari in borghese del nucleo operativo che hanno controllato 44 persone, di cui 7 con precedenti vari di polizia e 21 veicoli. Restiamo in zona per vedere gli esiti di altri controlli che hanno portato a multe per 150.000 euro. Su spese 4 attività imprenditoriali ed elevate sanzioni per oltre 150.000 euro, il bilancio dei controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza unitamente ai comandi stazione di Chiampo e Trissino nell'ambito dell'attività finalizzata la verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso. Controlli che sono stati effettuati all'interno dei cantieri edili tra la Valle dell'Agno e quella del Chiampo che hanno portato in totale al deferimento alla Procura della Repubblica di Vicenza di 15 imprenditori emessi 4 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui 1 per lavoro nero e 3 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Forze dell'ordine in azione anche a Padova dove è in programma un evento che porterà in città migliaia di giovani. Zona fiera a Padova blindata sabato notte la questura ha annunciato infatti che verranno effettuati controlli in tutta l'area visto che all'interno del padiglione 7 all'arena spettacoli è previsto il primo appuntamento in città del festival musicale Hellrov uno show internazionale con DJ e artisti di varie estrazioni conosciuto come il party più pazzo del mondo che attirerà a Padova migliaia di giovani oltre al personale della Polizia di Stato all'arma dei carabinieri della Guardia di Finanza della Polizia Penitenziaria saranno impiegate unità cinofila antidroga la Polizia Stradale invece vigilerà sulle strade per controllare e prevenire la guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti ora ci spostiamo a Monastiera dove si è verificato un furto piuttosto inusuale domenica pomeriggio alle cinque ho portato fuori i cani e alle cinque del pomeriggio quando io praticamente sono entrato in casa io le guardo sempre dalla finestra della cucina vedevo che non venivano più fuori dalla cuccia perché di solito loro vengono fuori quando le ho chiamate dalla finestra non venivano fuori dalla cuccia e sono venuto a vedere e ho detto molto probabilmente non ci sono più la contenuta di sperazione di Antonio Bonvicini tatuatore professionista che racconta quando domenica a pralongo di Monastiera nelle vicinanze della chiesetta della Madonna un American Staff di nome Coba e un cucciolo di bulldog francese che si chiama Camilla entrambe dotate di microchip e pedigree sono sparite nel nulla si pensa a un vero e proprio furto viste le chiare modalità dell'azione qua l'hanno tagliata è proprio stata tagliata contro un chiesino si vede perché un cane va bene morsica però l'hanno proprio tagliata e loro logicamente tagliandola l'ha sforzato un po' perché le chiamavano da là in fondo io sentivo delle voci che chiamavano i cani facevano venite qua venite qua e loro dopo sono scappate da sotto qua l'appello disperato di Antonio della sua famiglia va a chiunque possa dare informazioni utili sembra che non sia nemmeno il solo caso nella zona e si sospetta che possa essere stato qualcuno che conosce bene la famiglia le hanno chiamate perché da tre giorni che c'erano queste voci di persone che secondo me conoscevano i cani perché i cani non hanno mai abbaiato non per dar colpa né ai amici né ai conoscenti purtroppo i cani ne ho da tanti anni secondo me i cani quando conoscono le persone non abbaiano anzi la piccolina addirittura gli faceva le feste quindi vuol dire che la persona la conosceva abbastanza bene anche perché l'ama staff più grande abbaia anche alla signora che fa la nostra titolare della casa per dire quindi è una persona che conosceva torniamo ora a Padova per vedere le novità sull'indagine legata alla presidente della ONLUS Team for Children contrasti interni alla ONLUS dipendenti e consiglieri tre in tutto che si sono dimessi nel 2021 di sapori che avrebbero portato a tutto questo secondo Chiara Girello a Sena l'esposto in procura nei suoi confronti è stato fatto da una persona che era interna a Team for Children e che vuole nuocerle la presidente dell'associazione che sostiene il reparto di oncomatologia pediatrica travolta da un'inchiesta per appropriazione in debita di fondi destinati ai bambini malati dice di sapere chi ha fatto l'esposto in procura e di non avere nulla da temere in questi mesi però la procura di Padova e le fiamme gialle hanno sentito numerosi suoi collaboratori e alla fine hanno indagato Chiara Girello a Sena sotto la lente di ingrandimento numerose spese per circa 50.000 euro fatte dalla presidente per pagare viaggi in Sardegna prodotti di bellezza e abbigliamento ma anche l'accessione di alcuni condizionatori donati da un'azienda ad una familiare anziché destinarli al reparto di oncomatologia Chiara Girello a Sena era stata ascoltata in procura lo scorso febbraio accertamenti in corso sui conti e le spese fatte con la carta di credito della Onlus nel sito web di Team4Children Chiara Girello a Sena risulta aver effettuato la stessa delle donazioni la più grande di oltre 4.000 euro fatta l'11 maggio del 2021 per un totale di oltre 18.000 euro in due anni anche su questo la procura indaga Cambiamo argomento cambiamo zona andiamo a vedere a Venezia l'apertura del ponte votivo per la festa della salute e tutte le celebrazioni connesse dopo aver percorso con sindaco e prefetto il ponte votivo dal pulpito della basilica della Madonna della salute il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia ha messo al centro la figura femminile di Maria e l'importanza della donna nella nostra società abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione femminile in tutte le sue dimensioni perché è lì che nasce il futuro dell'umanità è dal sì di Maria ma è anche dal sì di una donna che accetta di accogliere la vita poi richiamo accorato alle prove che Venezia ha affrontato in particolare in questi ultimi tre anni la nostra città sta sollevando il campo dopo prove ripetute e ravvicinate le acque grandi la pandemia e il lockdown ha portato si sta sollevando l'unità ed è il momento allora di essere generosi e capaci di alzare lo sguardo attraversare il ponte votivo per il patriarca significa riflettere sull'importanza di creare un dialogo in una festa vissuta da tutta la città il ponte il ponte che abbiamo inaugurato il percorso ci richiama la necessità di essere punti nei confronti soprattutto di loro e le popolazioni brutte dalla guerra ed è importante che insomma dopo anche anni difficili di covid si sia tornati a pieno ritmo e con tanta gente anche oggi speriamo che sia un momento di riflessione un momento anche per diciamo guardare avanti e che insomma la festa della salute richiami tanti veneziani al ponte votivo al ponte vecchio quello di Bassano ponte degli alpini chiamatelo come preferite quello che non cambia è la situazione che si sta verificando sul ponte dove fra vernice scrostato dopo un restauro conclusosi poco più di un anno fa ragnatele in alcune zone e altre piccole pecche che insomma vengono notate dai turisti c'è qualcuno che si lamenta vedete questi solchi queste spaccature causate dalla vernice che si scrosta dalla balaustra del ponte vecchio ebbene questi segni sono delle vere e proprie ferite ferite al cuore all'anima dei bassanesi e dei turisti è sicuramente un peccato perché è il simbolo di Bassano quindi bisognerebbe forse intervenire chiaramente è un peccato per tutti i soldi spesi però sì mi dispiace che ci sia questo conveniente bisognerà che qualcuno tecnico dicca la sua è un peccato vedere un monumento ridotto così certo che è un peccato speriamo che il comune si prenda carico di un po' di manutenzione anche perché questo è un ponte dedicato agli alpini è un ponte storico per cui è patrimonio di tutti dell'umanità e di tutti quelli che lo vengono a visitare speriamo facciamo un appello a chi? al comune alla provincia a chi? facciamo appello a tutti anche allo Stato si potrebbe un po' aggiustare penso che sarebbe una bella cosa specialmente per quanto riguarda i turisti come noi posso andare a vedere ho visto anche il lampadario che non è tanto carino visto che è un restauro molto recente è una vergogna che si è già rovinato perché sarà stato restaurato in maniera che resista al caldo al freddo al ghiaccio a tutto penso dovrebbe essere stato fatto così è l'incuglia del lavoro non del tempo questo si è un peccato mortale dovrebbero programmare anno per anno fare un budget e stabilire un prezzo per destinarlo definitivamente al al ponte vecchio è come se non bastasse oltre ai segni dell'usura della vernice ci si mette anche l'ennesimo gesto di inciviltà di vandalismo con una scritta un altro graffito che va a deturpare quello che è uno dei simboli della città uno dei simboli del Veneto uno dei simboli dell'Italia e siamo andati a chiedere a chi ha seguito per anni il restauro del ponte ovvero all'ex assessore ai lavori pubblici di Bassano del Grappa la sua idea su quello che sta accadendo a questa vernice sentite cosa ci ha detto se la vernice del ponte vecchio inaugurato poco più di un anno fa si sta già scrostando magari non è colpa della vernice parola dell'ex assessore ai lavori pubblici che ha seguito per anni l'iter del progetto di restauro del monumento nazionale e che ha un'idea piuttosto chiara di cosa stia accadendo sentite cosa ci ha detto se avessero studiato un po' meglio il progetto avrebbe trovato delle parti dei capitoli dove si diceva che soprattutto laddove si metteva legno nuovo c'era bisogno di una manutenzione già dal primo anno manutenzione che non hanno fatto e quindi è successo quello che sta succedendo insomma qualcuno non avrebbe letto il libretto di istruzioni e per dimostrarlo Campagnolo propone anche una sorta di prova del nove ogni legno che è stato cambiato mantenuto è numerato e codificato all'interno del progetto quindi siamo in grado di sapere là dove ci sono i pezzi nuovi là dove ci sono quelli vecchi quelli vecchi molto probabilmente hanno avuto la vernice sopra la vernice già esistente quindi fanno più fatica a scortarsi quelli nuovi che sono stati sostituiti soprattutto in alcune parti che guarda caso sono quelle dove il legno si rovinava di più avevano bisogno di una manutenzione particolare da subito e questo prescriveva il progetto ripeto se non l'hanno fatto la colpa non è della vernice c'è spazio per una stilettata all'amministrazione di Elena Pavan colpevole secondo le minoranze di pensare un po' troppo alle inaugurazioni e ai festeggiamenti e un po' meno alla gestione e alla cura del ponte abbiamo un'amministrazione che è stata impegnata e si è preoccupata molto di inaugurarlo il ponte senza capire cosa stavano andando ad inaugurare nel senso che quello è un progetto molto complesso che ha una serie di articolazioni e una serie di vincoli molto importanti tra cui quello della vernice che è una vernice particolare fatta con terre rare è vero quello che dice l'assessore Zonda che è stata imposta tra virgolette dalla soprintendenza dico tra virgolette perché di fatto recupera storicamente quella che era la vernice che si era utilizzata nel primo dopoguerra ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria state con noi torniamo davvero fra pochissimo buongiorno buongiorno bentornati al focus tg siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in veneto andiamo a vicenza dove ieri era l'anniversario del bombardamento il celebre bombardamento del 44 per non dimenticare al Tempio di San Lorenzo vengono commemorate le vittime civili che nelle guerre mondiali hanno perso la vita il giorno più nero della storia di Vicenza il 18 novembre del 1944 quando i bombardamenti angloamericani distruggono i ponti sul Bacchiglione e sul Retrone e danneggiano i monumenti della città del Palladio i morti durante la seconda guerra mondiale nel Vicentino furono 1230 732 per rappresaglie 170 a causa di ordigni bellici inesplosi Signore di età di tutte le vittime della guerra delle vite tragicamente stroncate e di tante povere esistenze in cui la guerra ha lasciato la sua triste impronta di corpi straziati e di coroi affanti Negli occhi di questi familiari delle vittime civili di guerra le scene strazianti vissute a Vicenza 78 anni fa tornano a rivivere nei conflitti che ancora oggi insanguinano il mondo tanto da spingerli a lanciare un messaggio Il messaggio che noi portiamo come associazione è quello dei bombardamenti queste cose che vediamo in tutto in Europa così vicino una parte dell'Europa che vengono eliminate perché portiamo un messaggio di pace e di fratellanza Passiamo adesso alla politica vediamo le novità sull'autonomia poi sono arrivati anche dei lanci d'agenzia che vedremo più tardi Diviso la strada e il percorso sia sull'autonomia sia sul presidenzialismo sia su Roma Capitale ragionevolmente i tempi che porteranno alle finzioni credo che saranno molto simili Le partite sono intrecciate e saranno portate avanti insieme in una riforma più ampia dell'assetto istituzionale del paese questa è la linea emersa nell'incontro tra il ministro Calderoli e la premier Giorgia Meloni all'indomani della conferenza delle regioni certo sembrano lontani i tempi della campagna elettorale quando lo stesso leader della Lega Matteo Salvini lui stesso presenta l'incontro premeva per l'autonomia subito così il 5 settembre in piazza dei signori a Treviso a me piacerebbe che l'anniversario del referendum quindi a ottobre ci fosse in consiglio dei ministri la legge quadro che costa zero insomma resta da ridefinire e ricalibrare la tempistica ma l'accordo tra le forze di maggioranza c'è di ottime notizie parla Luca Zaia c'è sintonia e da parte del Veneto c'è la piena disponibilità a ragionare sulla legge di attuazione le parole del presidente che in mattinata ha incontrato la delegazione trattante ampie rassicurazioni arrivano dal numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto quello di oggi a Palazzo Chigi è l'ennesimo passo avanti verso l'autonomia un'autonomia che saprà tener conto delle diversità dei nostri territori con dei LEP che garantiranno a tutti un livello di prestazioni eccellente ma che responsabilizzarà molto di più le regioni e gli enti locali circa le modalità e le spese e i servizi che erogheremo ai nostri cittadini una vera autonomia che metta al centro il cittadino e che metta al centro i suoi bisogni intanto continua a far discutere la proposta leghista di insegnare il Veneto nelle scuole caustico Carlo Calenda in una nazione come la nostra dove la conoscenza dell'italiano è insufficiente come può venire in mente di insegnare il Veneto fate educazione istituzionale il tweet del leader di azione questa situazione dell'autonomia ha causato una levata di scudi ha causato molte reazioni c'è chi parla di uno stop che porterà una riscrizione della bozza c'è chi dice che la bozza di Calderoli sia una provocazione contro il sud insomma un tema che da silente silenzioso qual era fino a poco tempo fa difficilmente se ne sarebbe parlato se non ci fossero stati anche i nostri contagiorni come potete vedere durante ogni nostra informazione forse se ne parlerà un po' di più nell'immediato futuro adesso vediamo proprio questa proposta che era stata lanciata ovvero l'insegnamento del dialetto forse bisognerebbe dire lingua ma qui si aprono delle diatribe piuttosto roventi a scuola c'è una proposta di legge per insegnare la lingua veneta nelle scuole e in programmi televisivi abbiamo chiesto ai padovani e anche ai non padovani se sono d'accordo e se c'è una loro parola veneta del cuore mona perché mona poi si può dire in tante maniere ti si un mona cioè sia nel bene che nel male non è che secondo me questa è la parola veneta che mi piace di più se devo dire la verità qual è la sua parola o il proverbio veneto che più le piace tiriamo avanti perché se non tiriamo avanti cosa che fiamo nella vita in veneto guardi io non saprei perché non lo parlo mai mi spiace quindi aspetta che lo insegnino in tv beh no in tv magari con gli amici insomma cercherò di pensarci un po' di più polenta e bacca oppure polenta e rosei perché rappresentano la terra la nostra terra esatto esatto baccalà ecco quindi sono cibo insomma ecco andiamo sul cibo adesso vado a mangiarmi a qualcosa perché mi è venuta fame adesso vogliono proporre l'insegnamento del veneto nelle scuole e anche in televisione quindi può essere utile secondo me sì secondo me sì perché è comunque un patrimonio quello della nostra lingua quindi è giusto valorizzarlo ecco quindi io sono perfettamente d'accordo nella scuola mi sembra un po' troppo perché penso che la scuola tiene un valore nazionale però diciamo l'idea in sé non è male non perdere le tradizioni però secondo me mettere nella scuola è un po' un messaggio forte sono d'accordo sarebbe una cosa interessante soprattutto perché adesso i bambini parlano esclusivamente italiano ed è giusto anche che vengano diciamo istruiti anche sulla nostra lingua madre tema che divide e che stuzzica comunque anche abbiamo visto anche l'appetito dei padovani ne parleremo di sicuro da qui in avanti parecchie volte adesso cambiamo ancora argomento parliamo di sanità andiamo a vedere la situazione della doppia vaccinazione crescono i contagi da covid-19 nella provincia di Padova e parallelamente anche l'influenza stagionale sta colpendo maggiormente quest'anno complice anche il fatto che non si usano più le mascherine secondo le stime dell'USL 6 e Uganea sono circa 80 mila in Veneto le persone che hanno già preso l'influenza stagionale i cui sintomi sono molto simili a quelli del covid per combattere il virus i medici dell'USL e Uganea esortano alla vaccinazione bisogna certamente ricorrere alla vaccinazione sia l'antifluenzale che anche l'anticovid ricordo che possono essere date anche in corso di amministrazione che è contemporaneamente e un altissimo lavoro lo stanno facendo i medici della medicina generale con la loro campagna per la vaccinazione antifluenzale che è in piena espansione vaccino anticovid e vaccino antifluenzale possono essere somministrati contemporaneamente in un'unica seduta più di 9 mila padovani di cui circa il 50% nei centri vaccinali messi a disposizione dell'USL hanno già effettuato la doppia somministrazione in pieno sviluppo anche l'attività per la vaccinazione covid presso i centri vaccinali dell'azienda sia l'Unser 6 che anche gli abitatori di malazione ospediera e siccome ci vuole circa 15 giorni perché il vaccino faccia effetto il momento giusto è ora bisogna andare adesso a vaccinarsi in maniera derivata dall'acranzi natale protetta riguardamente sia per l'intuenza che anche per i covid ora ci spostiamo parlando sempre comunque di sanità il caffoncello a Treviso dove è in arrivo la possibilità del trapianto di midollo un centro per il trapianto di midollo osseo allogenico a Treviso aprirà con il nuovo anno il caffoncello e consentirà ai malati della marca e della provincia di Belluno di essere operati e seguiti a Treviso senza doversi spostare come accade ora a Verona Vicenza o fuori regione con i disagi e le spese che ciò comporta significa dar loro l'opportunità di essere trattati a casa vicino a casa con una terapia che può essere salvavita in molte situazioni Il trapianto allogenico di midollo osseo rappresenta la procedura terapeutica di elezione per il trattamento di numerose malattie oncoematologiche soprattutto le leucemie acute ma non solo a disposizione del nuovo centro quattro stanze con tutte le tecnologie per ridurre il rischio infettivo molto alto in chi ha subito il trapianto di midollo Sono quattro letti che dovrebbero assicurare fra i 30 e i 40 trapianti all'anno e quindi coprire le necessità dell'area di Treviso e di Berlone quindi di circa un milione di persone Il centro sarà ultimato nei primi mesi del nuovo anno Entro febbraio vorremmo partire con il primo trapianto Un centro che si avvarrà della collaborazione di luminari di fama internazionale come il professor Damiano Rondelli responsabile del centro trapianti dell'Università dell'Illinois L'idea di iniziare di aiutare a creare centri di trapianto di alto livello qualitativo è un progetto che io faccio da tanti anni Alla realizzazione del nuovo centro ha contribuito anche un ex paziente dell'ematologia di Treviso attraverso un lascito testamentario di 800.000 euro A dirigere il centro sarà la dottoressa Marta Stanzani Sono parte di un mosaico diciamo così composto da tanti professionisti che ha trovato qui assolutamente fantastici è una grande scommessa che però la città si merita Passiamo all'attualità del Vicentino che piange assieme al Veneto uno dei suoi più grandi capitani d'industria è morto Alberto Zamperla dovrebbero arrivare in giornata altre informazioni sui funerari ma vediamo intanto le reazioni per poter far sì che le cose migliorino bisogna avere coraggio addio a un uomo coraggioso addio al re delle giostre addio ad Alberto Zamperla il capitano d'industria che con le sue attrazioni geniali conquistò il mondo visione capacità di guardare al futuro senza dimenticare le sue radici i piedi ben piantati per terra la sua terra il Veneto dalla Repubblica di San Marco aveva uomini coraggiosi Marco Antonio Bragadin per fare un esempio gente di grande coraggio e lui di coraggio ne ha avuto fino alla fine si è spento a 71 anni dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo originario di Pieve di Soligo era il patron della fabbrica dei sogni la Zamperla di Altavilla Vicentina fondata dal padre Antonio proprio ieri la società veneta aveva annunciato la realizzazione della montagna russa dei record che raggiunge i 72 chilometri orari costruita nel parco dei divertimenti di Vancouver in Canada oggi sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo delle istituzioni della politica delle imprese per l'uomo che portò il Made in Italy nel mondo una vicinanza al cordoglio da parte dell'amministrazione alla famiglia di Alberto Zamperla ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per Vicenza per portare il nome di Vicenza nel mondo un imprenditore geniale che con le sue realizzazioni in tutto il mondo ha onorato la nostra provincia è un addio triste ma grato quello che diamo ad Alberto Zamperla perché con le sue giostre ha portato in tutto il mondo il nome di Vicenza e del Veneto facendo divertire le persone ha portato leggerezza e cibo per l'anima in tutti i paesi del mondo insieme con la tecnologia sopraffina della sua creazione noi lo ricordiamo con grande effetto anche pensando a tutti i concittadini ai quali ha dato un lavoro di alta qualità anche Altavilla saluta Alberto Zamperla che con la sua azienda ha dato lavoro a tanti nella cittadina vicentina non sarà dimenticato lui l'alpino con gli occhi che sorridono lui l'uomo capace di trasformare i sogni in realtà con l'impegno con il lavoro con l'innovazione con la dignità che ha lasciato come esempio come testamento e la dignità bisogna avere coraggio e io trovo che molte volte non c'è non abbiamo il coraggio di prenderci le responsabilità di essere coerenti nel fare quello che diciamo per la chiusura della nostra telegiornale andiamo in montagna a vedere il futuro della pista da Bob di Cortina realizzazione degli interventi necessari per i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 un primo passo è il decreto di determinazione conclusiva della conferenza dei servizi inerenti al primo stralcio per la riqualificazione della storica pista da Bob e Eugenio Monti che diventerebbe un percorso pedonale arredato come accettato dalla sovrintendenza e finalmente c'è un punto di partenza ed è quello che è uscito dal fatto dello strip out che incomincia inizierà il primo dell'anno del 23 quindi di conseguenza abbiamo finalmente una partenza è stato segnato come verrà fatto questo strip out e poi di conseguenza andremo avanti sulla progettazione la nuova infrastruttura sportiva del Cortina Sliding Center destinato a ospitare le discipline del Bob Parabob Skeleton e Slittino dei prossimi giochi olimpici invernali mira a preservare le condizioni morfologiche e altimetriche della pista storica salvaguardando sia il patrimonio immateriale costituito dai manufatti esistenti sia quello immateriale legato alla memoria di accadimenti sportivi del passato attraverso tali procedure l'ex partenza la cabina S e la decente curva Antelao nonché i tratti iniziali e terminali del tracciato storico verranno recuperati dialogando idealmente con la nuova infrastruttura che è un sine qua non sul quale sono state costruite tutto il dossier olimpico quindi di fatto la storicità che lega Cortina il fatto che comunque la pista di Bob fosse stata comunque nel dossier una parte focale lo è tutt'oggi e logico che ci rendiamo conto delle spese che comporta costruire una pista da Bob sia anche la sistemazione dell'olimpico dello stadio del trampolino quindi sono tante le cose che sono messe in gioco e che arricchiranno l'offerta di Cortina sia per i suoi residenti soprattutto ma anche per chi ci verrà vacanza il bando di gara prevede che le opere siano completate entro 60 giorni dall'avvio del cantiere con un complessivo importo suscettibile di ribasso pari a circa 2 milioni 200 mila euro questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale ringraziamo Fabio Verin Renzo Rigoni Alessandro Costacurta per la regia ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto ringraziamo voi per essere stati con noi vi diamo appuntamento a TG Bassano TG Vicenza di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo un buon pomeriggio a TG Bassano